Claudio Mancini, calciovedi.it, ciao Federico. Ciao. Una domanda più personale, mi piacerebbe allontanarvi un attimo dal calcio giocato. Sappiamo che hai alcuni tatuaggi, non so se ce n'è uno a cui sei particolarmente legato, se ti va magari di raccontarci il suo significato. Ma ne ho un po' per il corpo, diciamo che quelli per me più importanti sono i nomi dei miei figli, i nomi di mia moglie, i nomi dei miei genitori e di mio fratello. E l'ultima cosa volevo chiederti, hai un hobby particolare mai svelato al di fuori del calcio? Ma guarda, in realtà non ho grandi hobby, mi piace passare il tempo con i miei figli e con mia moglie. Va bene, grazie mille. Grazie.